Oggi nell'aria tutti sentiamo che è un giorno di festa. Eppure oggi è la domenica della passione di nostro Signore Gesù Cristo. Oggi nel mondo cristiano, quindi in tutto il mondo, noi dopo la processione osannante delle palme, con le palme che vengono benedette per ricordare l'incresso trionfante di Gesù in Gerusalemme, che si avviava verso la passione e quindi anche verso la risurrezione, oggi ascolteremo il racconto della passione. Ma è un giorno di festa ed è un giorno di gioia. Questa gioia che noi esclamiamo nel canto osanna al figlio di Davide. Questa gioia che ci fa in un certo senso confondere, cioè ci fa confondere con i bambini ebrei del tempo di Gesù e con i nostri bambini, che oggi più di tutti sanno innalzare queste palme e sanno cantare al Signore con un cuore libero e puro, osanna al figlio di Davide. E questa festa, questa festa che ha come proiezione anche la croce, è la vera festa, è la vera gioia. Perché è la gioia di Cristo, perché è la gioia del farsi dono, perché è la gioia di una speranza. La speranza che l'amore di Cristo continua a salvarmi, la speranza che l'amore di Cristo continui a vincere il male, nonostante nel mondo, nella nostra vita, vi sia ancora odio, vi sia ancora violenza, vi siano guerre, vi siano discriminazioni, vi sia malattia, desolazione. Cristo è la nostra speranza. Cristo entra nella mia vita, nella tua vita oggi, proprio perché vuole ancora una volta entrare, per poterci toccare e per cambiare la nostra esistenza, per darci e farci diventare speranza, per farci diventare un tutt'uno con Lui. In questa settimana ci aiuterà un bravissimo vescovo, Giancarlo Bregantini, che ha pubblicato di recente un testo con la San Paolo, una chiesa tra gli ulivi, che sono appunto le sue omelie, le sue riflessioni pasquali, le sue omelie sia per la settimana di passione che per la festa di Pasqua, di quando era pastore nella Locride, oggi è pastore di arcivescovo, dalla diocesi di Campobasso, Boiano. E lui dice queste parole a proposito del perché la Domenica delle Palme è una festa, ed è una festa sempre bella. Veniamo da una quaresima, ciascuno con la sua croce, la sua sofferenza, la sua fatica, la sua tribolazione quotidiana. Veniamo anche da giorni in cui ciascuno è stato ferito di nuovo dalla mano di Caino, purtroppo. Anche per questo motivo noi non dobbiamo scoraggiarci, ma crescere e guardare avanti. Perciò dobbiamo essere capaci, conclude Monsignor Bregantini, di accompagnare Gesù che entra nella città di Gerusalemme e che quindi entra nelle nostre città e nelle nostre esistenze. Buona settimana santa a tutti. Vi aspetto domani. Parepio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti. Ciao a tutti.